Il Consiglio regionale di ieri ha approvato la legge sui trabocchi con i voti della maggioranza composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, il No del Movimento 5 Stelle e l'astenzione dei consiglieri di centro-sinistra. La nuova legge consente la ristorazione per superfici che non siano superiori a 210 metri quadrati, di cui 160 destinate all'area del ristorante e 50 per la cucina. In pratica stagione salva per i trabocchi che sono già a norma, tempi lunghi per chi non lo è e dovrà ottenere una nuova licenza rimuovendo le superfici in eccesso. Per questi ultimi la stagione rischia di essere compromessa. Nella seduta di ieri sono entrate in ballo problematiche legate al mondo del lavoro. Un caso particolare è quello del Ciappi, l'ente di formazione professionale di Chietiscalo, ha rischiato di vedere sfumare i benefici disposti dalla precedente consigliatura che aveva assegnato un sostegno economico di 600 mila euro a causa di un emendamento presentato dalla Lega e che successivamente è stato ritirato da Forza Italia. Dopo anni di battaglie e di urla in Consiglio regionale, a difesa del Ciappi, poi improvvisamente chi ieri era minoranza e oggi maggioranza si fa carnefice di un'azione veramente al limite del verosimile. La Lega, autrice di questa azione, ha dovuto ritirare l'emendamento in Consiglio regionale e per poi vedere il capogruppo della Lega vantarsi di aver approvato un dispositivo di legge che farebbe ripartire l'economia in Abruzzo per aver abrogato leggi obsolete. Un dispositivo normale di ordinaria amministrazione, ciò che fa ripartire l'Abruzzo e ben altro, sono nuovi dispositivi di legge e azioni ben precise. Tra gli altri provvedimenti approvati ieri è anche la legge che dà ulteriore impulso all'attività dell'ufficio della ricostruzione di Teramo. Sono molto soddisfatto perché abbiamo approvato la legge 15 del 2019 che permette di dare ulteriore impulso e rinforza l'ufficio di ricostruzione di Teramo. Con questo provvedimento la Regione assume l'onero delle spese del personale a comando e le spese di funzionamento. Così facendo possiamo mettere altre 15 persone che sicuramente accelereranno le procedure per far rientrare i cittadini terramani nelle loro abitazioni. Quindi sono molto soddisfatto, adesso attendiamo lo sbocco da cantieri per dare ulteriore impulso all'ufficio di ricostruzione che fino ad ora è rimasto piuttosto fermo. Quindi un segnale positivo e questo veramente mi dà gioia per tutte le persone che sono ancora fuori casa.